Musica Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto al Vescovo Nunzio Galantino, presidente dell'Apsa, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Grazie, grazie, buonasera da voi, a tutti. Prima di tutto spieghiamo a tutti che cosa è l'Apsa e che cosa fa il presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Sì, in genere quando la gente sente Apsa pensa che non si viva interesse di corrente elettrica, di acqua, no? L'amministrazione del patrimonio della sede apostolica è uno dei dicasteri del Vaticano, diciamo dei ministeri del Vaticano, ed ha come compito fondamentale proprio l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Interessante questo perché il patrimonio della sede è quello che di fatto permette tutte quante le attività della Chiesa, dall'evangelizzazione alla carità ad altre attività anche culturali. E' un patrimonio che viene da lontano, ma gran parte di questo patrimonio viene dall'accordo tra Stato italiano e Santa Sede per riparare alla cosiddetta questione romana. Sapete un po' tutti quanti che con le leggi risorgimentali lo Stato italiano si prese tutto quello che era della Chiesa, a cominciare dal Quirinale, no? Ma anche nei nostri piccoli paesi, io so per esempio nel mio paese a Cerignola il comune stava nel convento dei Carmelitani, il carcere nel convento degli Antoniani, ma anche a Roma qui altre realtà. Quindi c'è stato un momento in cui si è cercato di ricomporre questo tipo di realtà. Più undicesimo ricevette dallo Stato un miliardo e 750 milioni di lire a quell'epoca, a parziale ristoro di quello che si era preso un po' tutto quanto lo Stato. Evidentemente la Chiesa, più undicesimo cosa ha fatto? Quei soldi non li poteva tenere sotto il mattone o nel tiretto. ha investito, ha investito con un obiettivo preciso, assicurare alla Chiesa la libertà di poter fare il suo mestiere, poter evangelizzare. Però questo patrimonio di cui abbiamo ricostruito anche un po' la storia e i fini, ultimamente è tornato un po' alla ribalta, soprattutto in seguito alla pubblicazione di un libro, Giudizio Universale, e si è scritto che questo patrimonio rischia il crack, e quindi il crack insomma sarebbe sua responsabilità in qualche modo. Ah, bello! Ma secondo me siamo un po' alle solite, no? Intanto un'osservazione generica o generale, se volete, c'è una sorta di prurito, no? Per cui tutto quello che succede dentro il Vaticano, anche se sono cose o situazioni che fanno parte della gestione ordinaria di una realtà, vengono ritenute, tutte quante vanno lette alla Dan Brown, alla Codice da Vinci. Bisogna necessariamente vedere dentro che c'è qualcosa di losco, qualcosa di non dicibile. In questo caso specifico, i giornali, ma anche questo libro, che io non ho letto, ma sento di dire in giro, parla di un crack del Vaticano. Lì una cosa molto più semplice, ad un certo punto, anzi ma non è la prima volta, ci si mette insieme, tra tutti coloro i quali hanno queste responsabilità, assieme al Santo Padre, ad un certo punto si scopre, si scopre, si prende atto che le spese sono maggiori delle uscite. Tentere presente che il Vaticano, la città del Vaticano, comunque la Santa Sede, non ha, non impone tasse, non ha un debito pubblico, per cui come ogni famiglia che si rispetti, come ogni Stato serio, le cose che fa, deve farle con i soldi di cui dispone. Ci si rende conto come le spese nel Vaticano superano le entrate. Allora cosa si fa? C'è chi dice, ah, vuol dire che stiamo andando a sbattere. C'è chi dice, e sono la maggior parte delle persone, sono coloro i quali cercano di guardare con un occhio critico, ma anche oggettivo la situazione, dicono, qua, dobbiamo guardarci in faccia e vedere un po', di fare una buona spending review, cioè cercare di vedere dove si può risparmiare. E che ha capito, che dove si può risparmiare finora? Ma questo per fortuna non è un compito mio, ma sicuramente, sicuramente, guardate, in una realtà grande come la nostra si può sicuramente risparmiare. Non si deve risparmiare sulle persone, ma sulle strutture, su alcune attività, a mio parere, si può fare. L'ultima domanda di questo tipo, poi andiamo alla vera ragione per cui l'abbiamo invitata oggi. A meno male, perché sono venuto per un altro motivo qua. Eh sì, no, però mi incuriosiva questo fatto. Tra i suoi compiti c'è anche quello di pagare l'Imu. Ma la paga l'Imu la Chiesa, poi, o no? Ma questa storia, no? Questa leggenda che la Chiesa non paga l'Imu, secondo me, ecco, fa parte di quella lettura della Codice da Vinci, no, di quello che suppone. È vero, l'Imu la paga il mio di Castero. Allora ti do una bella, faccio fare un bello scoop qui dentro stasera, no? Nel 2018 la Chiesa, soltanto il mio di Castero, ha pagato 9.228.030 centesimi d'Imu. 9 milioni. Perché soltanto il mio di Castero significa che poi il resto... No, significa che ci sta anche propaganda fide che paga altri. C'è la Conferenza Episcopale Italiana che paga l'Imu. C'è anche il Vicariato di Roma che paga l'Imu. Cioè io sfido chiunque, a cominciare anche da chi ha responsabilità amministrative del Comune di Roma, ad andare nell'ufficio amministrativo e a dire oh, abbiamo sentito che Galantino, il presidente dell'Apsa, ha detto che qui hanno pagato 9.228.000. è vero o non è vero? Se vanno lì, trovano sicuramente le carte e troveranno anche l'ultima, quella di gennaio-luglio, che è di 4.434.000-35.000 euro. Quindi sicuramente il Comune di Roma riceve i soldi. Lasciamo perdere i soldi adesso. Ah, bene, non male. Parliamo di un'altra parola, una parola che ha segnato il suo impegno prima per un paio d'anni, credo una rubrica sul Sole 24 Ore, è oggi la pubblicazione di un libro. Questa parola è confine e il libro appena pubblicato, eccolo qua, lo prendo, ce l'ho qui sulla sera, si chiama Sul confine, incontri che vincono le paure. Che cos'è il confine e perché l'ha usato come chiave per raccontare una serie anche di esperienze e di riflessioni su temi anche molto diversi l'uno con l'altro? Ma ho preso questa parola perché è quella che di fatto attraversa più di altre tutto quanto il libro, ma soprattutto un confine che è diverso dall'utilizzo che spesso se ne fa. Spesso quando si parla di confine si parla del confine come se fosse un sinonimo di barriera. La parola confine anche etimologicamente parlando non vuol dire questo, vuol dire ciò che nello stesso momento apre ma anche chiude o meglio chiude ma anche apre. È luogo, è un po' come la soglia di una casa il confine, no? Uno può utilizzarla unicamente per sbarrare la porta ma uno può anche utilizzarla per andare oltre. E allora ho utilizzato questa parola proprio perché penso che debba essere quella del confine l'immagine che deve caratterizzare un po' la nostra esistenza. Dobbiamo essere persone io dico capaci di avere una bella, forte identità ma capaci anche di rafforzare questa identità nel confronto con gli altri, nell'ascolto degli altri, nel dialogo, altra parola che nel libro sul confine attraversa un po' è presente e l'altra parola è dialogo. Allora sentiamo Papa Francesco proprio sulla parola dialogo che è quella che poi ci permette davvero di attraversare il confine e cerchiamo di capire attraverso l'aiuto del Papa che cosa significa dialogo. vi raccomando anche in maniera speciale la capacità di dialogo e di incontro. dialogare non è negoziare negoziare è cercare di ricavare la propria fetta della torta comune. Non è questo che intendo ma è cercare il bene comune per tutti discutere insieme potrei dire arrabbiarsi insieme pensare pensare alle soluzioni migliori per tutti la Chiesa sia fermento di dialogo di incontro di unità del resto le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro tra culture comunità e istanze differenti non dobbiamo avere paura del dialogo anzi è proprio il confronto e la critica che ci aiuta a preservare la teologia dal transformarsi in ideologia. Quindi bisogna dialogare sempre e con tutti ha fatto molto discutere per esempio un'apertura di dialogo che ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera e il Cardinal Ruini già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana un'apertura un invito anche al dialogo per esempio con il leader della Lega Salvini lei che cosa pensa? Quali sono le condizioni perché ci sia un dialogo? Ma mi pare che la tua domanda abbia due tipi di diciamo chieda a me due tipi di risposte la prima che riguarda il dialogo in sé e qui mi pare che il Papa abbia detto con grande chiarezza che il dialogo non è ha detto lui non mettersi a tavola per dividersi la torta tornerò su questo dopo a proposito dell'attualità e non è nemmeno un ricercare una sintesi a tutti i costi il dialogo non appiattisce le posizioni il dialogo non mi chiede di rinunziare alla mia posizione mi chiede piuttosto la disponibilità a confrontarmi con quella dell'altro perché se c'è veramente disponibilità al dialogo io posso crescere ascoltando l'altro soprattutto se l'altro porta istanze diverse da quelle che io posso portare di sicuro guardate al dialogo non si va come si va in guerra non si può andare come si va in guerra ma d'altra parte al dialogo non si va nemmeno per svendere la propria identità per svendere le proprie attese per svendere le proprie aspirazioni quindi il dialogo è davvero qualcosa di dinamico uno che va al dialogo già portando in tasca più o meno il gruzzoletto che dovrà ricavare da questo dialogo secondo me è un miserabile non c'entra niente col dialogo questo Poli mi chiede adesso questa questo invito al dialogo che il cardinale Ruini ha fatto nei confronti di Salvini premessa abbiamo tante belle cose a cui pensare nella Chiesa ma anche tanti problemi a cui a cui dedicarci per cui quest'altro sport adesso con Ruini o contro Ruini io personalmente mi sottraggo a questo tipo di sport cioè non mi interessa con tutto il rispetto al cardinale Ruini non mi interessa dichiararmi dalla sua parte o contro di lui perché non serve a nessuno penso che a nessuno interessi sapere io come la penso su questa questione particolare una cosa devo dire sulla scelta di quello che diceva il Papa bisogna stare attenti perché se dialogo vuol dire vuol dire non voglio dire questo fatto se dialogo iniziare il dialogo vuol dire cominciare a rimettere in piedi i vecchi collateralismi io con questo tipo di dialogo non voglio avere a che fare perché sappiamo già dove hanno portato i vecchi collateralismi lo sa anche il cardinale Ruini che è stato tanti anni nella nostra presidente della conferenza episcopale italiana i collateralismi non portano da nessuna parte allora se il dialogo vuol dire mettiamoci andiamo a trovare il vincitore di turno quello futuro quello passato questo a me personalmente non interessa mi interessa invece il dialogo che è veramente una risorsa straordinaria per la vita politica per la vita familiare per la vita ecclesiale il dialogo è sicuramente un dono perché non ci si inventa gente dialogante il dialogo poi richiede anche che dall'altra parte ci sia la disponibilità allora come chiedo a me chiesa di non andare al dialogo per potermi più o meno guadagnare un pezzo di torta come diceva il papo per mettere al sicuro i miei interessi mi interessa anche o voglia anche che dall'altra parte non ci sia il desiderio di strumentalizzare la mia disponibilità quindi il dialogo è una cosa seria che va preparata va fatta davvero con tutti ma con la chiarezza degli obiettivi che si vogliono non ci si usa no 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 perché se se si strumentalizza a vicenda se lo fa la chiesa è veramente un brutto servizio un brutto servizio gli altri se vogliono farlo certamente non ci troveranno con l'anello al naso il libro che ha scritto è frutto di una lunga esperienza di vita anche di esperienze molto diverse quella di parroco di professore di teologia di vescovo di segretario generale della scienza dovevo fare qualche cosa di settant'anni ho fatto un po' di cose in questa esperienza qual è l'esperienza di dialogo che è più l'assegnata? devo dire la verità l'esperienza che mi ha segnato di più di dialogo che mi ha segnato di più è stato un dialogo assolutamente impari che ho dovuto fare con i primi ragazzi i primi giovani tossicodipendenti che ho incontrato nella mia comunità parrocchiale devo dire che è stato impari perché non ne capivo niente di questa roba facevo il teologo o il professore di teologia quindi non tanto mi compromettevo con questa roba facevo il parroco ma sa queste cose se tu non hai voglia veramente di metterti in gioco spesso ti passano a fianco e forse non te ne accorgi nemmeno mentre quando mi sono visto delle facce precise dei volti precisi che mi hanno chiesto di essere aiutati io da incosciente ho subito detto di sì per cui mi sono accorto che la loro esperienza la loro fatica di vivere la loro voglia di rimettersi in gioco mi ha costretto costretto veramente a cambiare un po' registro di vita nel registro della mia vita e penso che sia stata uno dei dialoghi più faticosi che ho dovuto fare facciamo una piccolissima pausa poi torneremo in dialogo anche con voi ci vediamo tra poco con la gratità del Signore andare a trovare il Signore incontrarmi con il Signore o chiudermi nelle mie cosse di nuovo in diretta con oggi c'è il Presidente dell'Apsam Monsignor Nunzio Galantino insieme a lui andiamo ad ascoltare quello che il Papa ha detto questa mattina a Santa Marta un'omelia centrata sul Vangelo la parabola in cui il padrone fa tanti invitati per una grande cena e riceve tanti rifiuti di cui il Papa ci fa riflettere sul peccato di chiusura chiusura alla gratuità di Dio davanti a quella gratuità a quella universalità della festa c'è quell'atteggiamento che rinchiude il cuore io non ci vado preferisco stare da solo con la gente che piace c'è a me chiuso questo è il peccato no? il peccato del popolo di Israele il peccato di tutti noi la chiusura per me è più importante questo il mio sempre il mio nel cammino della vita tante volte saremo davanti a questa scelta a questa opzione o la gratuità del Signore andare a trovare il Signore incontrarmi con il Signore o chiudermi nelle mie cosse nel mio interesse per questo il Signore parlando di una delle chiusure diceva che è molto difficile che un ricco entri nel regno dei cieli ma ci sono ricchi bravi santi che non sono attaccati alla ricchezza ma la maggioranza sono attaccati alla ricchezza chiusi e per questo non possono capire cosa è la festa ma non la sicurezza delle cose che posso toccare pensiamo a questa parabola che ci dà il Signore oggi come va la nostra vita cosa preferisco io accettare sempre l'invito del Signore o chiudermi nelle mie cosse nelle mie piccolezze e chiediamo al Signore la grazia di accettare sempre di andare alla sua festa che è gratuita quindi tornando un po' anche al tema dei confini se ho capito bene l'omelia di Papa Francesco vivere il confine come un elemento di separazione costruisce una barriera è un peccato ma certamente perché ma prima di tutto un peccato scusatevo se dico questo un peccato umano antropologico nel senso cioè che rinunziamo ad essere quello che ciascuno di noi è chiamato ad essere cioè gente che proprio perché appassionata della vita non si ferma non si chiude in schemi asfittici ma si rende disponibile a qualsiasi ecco qua a qualsiasi invito ci venga dal Signore tanto perché il Signore non ci invita necessariamente vedendoci a parlare all'orecchio durante la notte o mentre stiamo in un angolino a pregare lui ci invita continuamente attraverso le persone che incrociamo attraverso le storie che incrociamo attraverso una lettura che facciamo attraverso una trasmissione che seguiamo cioè Signore io penso che non smetta mai di fare proprio questo aprire il nostro cuore continuamente invitarci ad osare sempre di più invitarci a gettare il cuore oltre l'ostacolo Dio abita dove lo facciamo entrare scrivi citando Martin Buber mi pare è vero è vero ma questo sai perché perché molte volte noi un po' per paura un po' per sì per paura per chiusura non viviamo il presente Dio abita dove stiamo nella realtà che noi stiamo abitando in questo momento alcuni vivono di passato soltanto un po' come la moglie di Lot che camminava con la testa indietro però invece una brutta fine divene una stato di sale altri pur di non giocarsi la vita oggi pur di non impegnarsi oggi pensano sempre che la vera loro realtà sta più avanti sta nel futuro ma in questa maniera si perdono il meglio e quali sono i rischi di chiusura che vive oggi la Chiesa stavo cercando una citazione che mi ha colpito nel suo libro la ricostruisco a memoria mancando sicuramente qualcosa in cui parla di una Chiesa oggi impegnata in una rivoluzione garbata ma morale gentile però una rivoluzione che investe tutte le dimensioni però invece dove vede maggiore resistenza maggiore chiusura quali sono le chiusure che rischiamo ciascuno di noi non stiamo parlando di una parte stiamo parlando della Chiesa ma io penso penso che la chiusura la chiusura maggiore è quella un po' della quale parlavo adesso io cioè questo non voler stare con tutto se stessi mettendosi veramente in gioco nella realtà oggi la Chiesa è chiamata ad annunziare Cristo ad annunziare il Vangelo con passione ma agli uomini di oggi alle donne di oggi quindi deve anche impegnarsi a trovare il modo il linguaggio anche la passione ripeto per poter con lealtà incontrare l'altro non possiamo noi scaricare sugli altri alcune cose sicuramente hanno fatto benissimo nel passato sicuramente hanno fatto dei santi nel passato ma certi linguaggi oggi purtroppo non dicono niente ma non per colpa della Chiesa è perché il linguaggio cambia mi riferisco al linguaggio ma anche altri tipi di modelli alcuni pensano che siccome alcune realtà hanno fatto bene nel passato si possono automaticamente riproporre oggi questo non ha senso non ha senso oggi veniamo chiamati a rispondere con gli strumenti di oggi il Vangelo è sempre lo stesso il Vangelo è sempre lo stesso il messaggio cristiano grazie a Dio è sempre lo stesso però bisogna saper utilizzare bene gli strumenti necessari per poter far passare questo messaggio e perché non dobbiamo avere paura questo pure scritto in qualche modo nel libro lo anima di un mondo che invece non è più lo stesso e a tratti ci può sembrare ostile in qualche modo ma non dobbiamo avere paura prima di tutto perché è qui che ci ha messo il Signore il Signore non mi ha chiamato a vivere nell'Ottocento a me mi ha chiamato a vivere oggi e allora se io davvero voglio bene al Signore e voglio che altri lo conoscano non posso andare a parlare ad altri devo parlare a quelli che incontro e quelli che incontro oggi non sempre la pensano come me non sempre hanno la passione o la disponibilità che richiede l'accoglienza del Vangelo per cui il mondo dobbiamo accoglierlo come oggi e cercare attraverso il Vangelo di farlo diventare come il Signore lo vuole grazie davvero è il momento adesso del Rosario in diretta da Lourdes il Teario torna domani insieme a Nicola Ferrante alle 17.30 noi ci rivediamo giovedì buona serata la Vergine Maria umile ed alta più che creatura ci aiuti a riconoscerci come siamo cioè piccoli e a gioire nel donare senza contraccambio grazie a tutti grazie a tutti